Musica Musica Colleg Pi faldi Qual vi abbiamo parlato prima con Marco Leoni Ad una manciata di centesimi Dal vincitore Ozz Mentre arriva experimentation Conti Grigi, secolo quale, equipaggio numero 84, anch'esso su una Clio, anche loro sono di casa, sono un equipaggio locale. Con Ruggero alle note, a Rota Conti, cosa pensa di fare in questo rally? Tendiamo di arrivare alla fine e di divertirci. Perché è una speranza, è essere il primo obiettivo innanzitutto? Perché sai, è sempre meglio essere prudenti. Ma in un rally non bisogna essere prudenti, bisogna essere proprio scavenza collo, troppa prudenza, no va bene, noi ridiamo un po', ovviamente, ci mancherebbe. Ci mancherebbe perché ogni equipaggio ha un obiettivo che può essere differente, c'è quello al debutto, c'è quello che è sulle strade amiche, c'è quello che vuole vincere senza sé, senza ma, c'è quello che vuole solamente testare l'avventura, insomma ci sono tanti motivi per cui essere a vedere un rally, e noi, siamo pronti, siamo felici che i piloti con l'abattamento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.